Guarda, stanca, sto cambiando il gioco e, yeah 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 yeah, sto cambiando il gioco e, mi sa che non sai chi è il vero 8055, un abbraccio a mio fratello mister, per la strada e nella strada finchè finalmente daremo belle notizie, sono fuori, guarda come sono fuori, ci lo dico sempre perchè poi quando ti ascolto penso solo muori, oh oh, ho mille contenuti ma la gente è un cazzo, meglio...